Grazie! Buonasera a tutti, questa sera realizziamo un sogno, avevamo due sogni, uno partecipare al Festival d'Italia in Musica e l'altro era partecipare al Festival di Sanremo e questa sera ne abbiamo realizzato uno dei due. Sanremo, che bello! No, il Festival d'Italia in Musica è diverso, il Festival di Sanremo è sempre stato un nostro sogno, sogno che non abbiamo mai realizzato perché il Festival ha sempre tirato fuori degli artisti incredibili, mi ricordo qualche anno fa vinse Marco Mengoni, con la canzone L'Essenziale, tra l'altro successe qualcosa a Mengoni, successe un fatto vero, Marco Mengoni mentre era sul suo aereo, questo è successo veramente, è scoppiato il motore destro dell'aereo all'improvviso e lui ha cominciato a cantare, visto il momento di tensione, insomma Marco ha cantato... Se l'aereo cade a pezzi, io che penso non so cazzo... No, no, perché Marco? Marco, ti prego... E poi tornando indietro nella storia, mi ricordo quella cantante bravissima, quella cantante italo-marocchina, Malika Yann... Ah, Malika Yann, ricordate che questa estate ci ha sfragassato... No, ci ha tormentato con la sua canzone quella... Tempo, può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi non cambia il tempo... Non faccio letto tempo, dammi un po' di tempo... Ma amici di Goal TV, abbiamo scoperto una cosa incredibile... Cosa? Abbiamo scoperto che Malika Yann ha un fratello... Malika Yann, che è quello che sa che dici... Incredibile... È vero... Ragazzi, devo dire, a casa, le risate erano vere... Anche l'applauso era vero... Comunque, c'è un fratello? Sì, Malika Yann, sì, Malika Yann, l'hai detto tu adesso... Ma poi, andando indietro, ancora negli anni, nel 95 vinse quel gruppo... Quel gruppo erano in sei... Erano in neri per caso, ma quest'oggi non c'entravano tutti e sei... Sono rimasti in tre... Noi... I peli nel naso... No, ma che peli nel naso... Quelli che cantavano... Ma grazie... Quelli che cantavano... Più o meno così... Non restare sulla porta... Entra pure se ti va... No, 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 no... Che se non sarà stasera... Prima o poi succederà... In fondo, quando c'è sentimento... No, 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 no... Non c'è mai sentimento... Una chicca! Grazie. A cappella, grazie, grazie. Quando hai il pubblico, tra l'altro, amici, persone che mai viste... Mai, mai... Che non conosci la prima volta che ti vedono... È questa. È la soddisfazione più grande. È la gioia più grande. Ma parlando proprio di Sanremo, quest'anno sembrava... Anzi, l'anno scorso sembrava l'anno giusto per noi. Ma purtroppo loro sono arrivati prima. Il volo. Perché il volo nostro ha fatto ritardo. Proprio quando la sera era... A spiga... Questi tre ragazzi, noi siamo dei grandi fan, diciamolo, del volo. Questi tre ragazzi che sono nati dalla trasmissione e ti lasciano una canzone. Poi hanno girato tutto il mondo. Però diciamo, i concerti del volo sono un po' strani. Sì, noi l'abbiamo visti, sono strani, sono strani. Un po' strani perché prima di entrare al concerto devi fare il check-in. Non si è mai vista una cosa... Quando entri ti pesano la borsa, quando esci... Ti pesano le palle. No! Non si dice, siamo in televisione. Due ore? No! Dimmi chi sei... Però hai ragione, hai ragione, perché questi tre ragazzi, è vero, sono giovani, però con questo repertorio non è che, insomma... Insomma, è molto allegro. Ma hanno avuto un'infanzia diversa da quella di tutti gli altri bambini. Sì, anche le sigle dei cartoni animati le cantavano a modo loro, non come noi, insomma, le cantavano un po' a modo loro. Ok, quindi torniamo indietro, quando i ragazzi del volo erano ancora piccoli, erano ancora dei... Dei volantini. E sentiamo... Non l'ha capita nessuno, questa cosa. Come? Bene. Sentiamo come le canzoni dei cartoni animati cambiavano. Insomma, diciamo che non cambiano. Sentiamo un po'. Il volo da piccoli, sentiamo. Vai. Il volo da piccoli. Solitario nella notte, ma se tu li incontri, gran paura fa il suo volto alla maschera. E' l'uomo tigre. 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 I tuoi, i tuoi Hendrix. Noi buffi siano così. Noi siamo tutti blu. Noi buffiamo su per giù. Due mele o poco più. Due mele o poco i funghi buffi assai. Buffarli tu potrai. Grande buffo Dimmi chi sei Goku non lo sai Ma presto lo scoprirai E poi tu scomparirai Dragon Ball Dragon, 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 Dragon Ball Grande, 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 grande amor Il volo da piccoli, il volo da piccoli I volantini Che poi questa canzone assomiglia a qualcosa se ci fai caso Che assomiglia Dimmi chi sei Assomiglia Vediamo se il nostro pubblico Io non No, chiedo a loro, meglio Assomiglia Che assomiglia La mia Mi vado Vai insieme, insieme La sera è una Vado che lo sanno tutti purtroppo Basta Scusate Peccato che non c'è pubblico davanti Dove esserci un pullman Che poi vabbè Non ha trovato il parcheggio Ma Dovevano stare 40 persone qui Ma La cosa bella Che noi Festival Italia in Musica Viviamo appunto di musica Quanto fanno noi? Mezz'ora? Mezz'ora noi C'è scritto sulla scaletta Mezz'ora gemelli Ah ok No Dicevo No Più fai adesso Meno fai dopo Ah ok Scherziamo Scherziamo No dicevo Viviamo di musica Però alcune canzoni Andrebbero Dove guardo? Là? Ok Va bene Andrebbero evitate Quindi In alcune situazioni Andrebbero evitate Se no si rischia di fare Delle figuracce Ok Quindi Questa rubrica che andiamo a fare Amici di Festival Italia in Musica Si chiama Canzoni da evitare Ok Abbiamo anche la sigla? Si Maestro Signori La sigla Sì Canzoni da evitare Bella Mamma mia Pelle d'oca Pelle D'oca Veramente Bruttissima Io l'ho visto Negli ultimi mesi Lì di notte Faceva le nottate A scrivere No scrivo la cosa Se possono aiutarci Della regia Per creare un po' il momento No Abbassando un po' le luci Un po' di più Ok Buio totale No 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 Ok Ci siamo Però abbiamo creato Ok Canzoni da non cantare mai Prendete nota a casa Prendete nota Non cantare mai In queste situazioni Canzone da evitare A bordo di un aereo Tu mi porti su E poi mi lasci cadere Tu mi porti su No no Evitiamola Marco Capri Evitiamola No mai Canzone da evitare Se il vostro partner Soffre di aereofagia Questo amore È una camera gas È un palazzo Che brucia in città Evitiamo Evitiamo Prendete nota Segnate Prendete nota Segnate Canzone da evitare In presenza dell'ex ministro Brunetta Aia Io Un giorno crescerò E nel cielo della vita No Evitiamo Capito Canzone da evitare In crociera Guarda come si spariscono le mani Canzone da evitare Canzone da evitare Al ristorante cinese C'era una volta Fratello Vedi a volte Bisogna Come si chiama Cugino Eh dai Bravi Beh bravissimi Bravi 送ere Canzone da evitare